Un'escursionista di appena 18 anni, Gabriele Comis, nato a San Candido e residente a Campolongo di Cadore, è morto scivolando sul ghiaccio e precipitando in un canalone sul Monte Colla, in Cadore appunto. Il ragazzo era con un amico, di entrambi si erano perse le tracce lunedì pomeriggio, quando non erano rientrati dall'escursione. Erano rimasti senza pile e al freddo, mentre rientravano da Campolongo sul sentiero 331. Dopo un primo tentativo infruttuoso, una squadra del soccorso alpino del Comelico ha rintracciato uno dei due giovani che rientrava da solo, sotto sciocca raccontato di aver visto l'amico scivolare sul ghiaccio e scomparire in un canale. Cercando di aiutarlo, anche egli era ruzzolato a valle in mezzo a un bosco, riuscendo infine a imboccare una strada forestale e a tornare all'abitato. Con il diciottenne deceduto dopo essere precipitato per centinaia di metri, è stata recuperata anche la salma del suo cane, morto a sua volta nell'incidente.